gentili degli spettatori bentrovati da andrea di pre sarzana c'ho sete c'ho sete di ocane mi bevo subito sto rumo e pera che c'ho sete alla goccia alla goccia di ocane rumo e pera per il puma perché deve farmi delle richieste attenzione sarzana notturno quasi possono sentire tutti porco dio ci sentono siamo matti qua veramente siamo oltre ogni limite perché è notte eppure urliamo urliamo se vogliamo se vogliamo solo se vogliamo di ocane allora puma il discorso è questo il puma è ormai famosissimo però le servono le servono i soldi giusto mi servono i soldi aiutatemi se volete matto posto pay 40 23 60 0 5 76 72 43 73 a marzi luca avete capito lo metteremo anche in sovrimpressione fa c'ho caldo c'ho caldo c'ho caldo c'ho caldo ma cos'è che suona l'ambulanza l'ambulanza per me non è per me non è per me allora allora puma avanti con le vostre offerte per il puma fate i vostri versamenti sono sopposte pay perché questo è un mito com'è di pre paura di pre paura di pre paura di pre paura mossa 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 subito la mossa perché spettacolo puro bainaita sarzana ma è difficile è porco dio qua è difficile gli occhiani cazzo è difficilissimo qui vado giù di pre paura vado giù vado giù vado giù vado giù non mi fermo non mi fermo non mi fermo ci sta quando voglio non mi fermo andrea puma ascolta non ce l'ho la figa nel culo come muniz non ce l'ho la figa nel culo come muniz simone non trombi giuseppe non trombi le metto io a pecorina si le metto io a pecorina a bella si allora attenzione vi dato la so poste pay il puma questo è di pre per il sociale operativo se è il vostro mito dimostratelo nei fatti fate il vostro contributo anche 2 euro anche 5 euro anche 100 euro anche 1000 euro voglio iniziare a fare le serate discoteca sono matto le metto tuta pecorina gliela le cotuta si pelosa rasata belle gomme larghe strette belle dico male dico bene c'ho ragione ma tu hai perfettamente ragione su un tuo posto ho detto basta è giusto che tu dia un conto corrente che lo ripeto porco dio 40 23 60 0 5 76 72 43 73 a marzi luca allora attenzione il puma luca marzi detto il puma pretende il vostro contributo perché è un grande non lo aiuta nessuno non c'è nessun partito non c'è nessun gruppo non c'è nessun gruppo non ha niente giusto se non c'è non un cazzo dai dio cane aiutatemi mangia fatica l'ho già detto mangia fatica è un casino sono deperito addominale squartato se voglio palestra palestra matto io spero che nessuno qua ci impedisca questa trasmissione live perché è appena notte a sarzana non ce n'è di matti in giro vengo da romito vengo da romito magra vicino a comune di arco la sarzana la spezia romito liguria liguria italia europa di occhiani ok ora mi intorno perché è sempre così in ita purtroppo è così c'è no fammi parlare a me fammi parlare a me dio cane dio cane fammi parlare a me vi faccio vedere una cosa per voi timi qua dio cane cazzo forza voglio stupirvi con questa cosa dio cane non è possibile non è possibile la contromossa la contromossa mai fatta prima in televisione mai fatta prima la contromossa non è possibile questo è difficile mossa contro mossa vediamo che è tardi porco dio mossa e contromossa puma mi canti la tua canzone preferita mossa questo va ancora c'ho il fiatone però la canto no sa no sa il puma fa la mossa hai se ti piego hai hai se ti piego delizia delizia sabato una trombata bella 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 pecorona allora ripetiamo che un'oltre il posto è in sovrimpressione per aiutare il puma fatelo ovunque in italia anche all'estero il vostro contributo aiutato se voglio perché lui deve potersi esprimere c'ho il baffo non lo taglio lo lascio crescere matto ti senti esplodere puma esplodo voglio uscire da questo corpo voglio uscire voglio uscire voglio uscire cazzo là si è accesa una luce devo resistere devo resistere comunque qualsiasi persona impegnerà questo trasmissione se ne darà assumere le responsabilità controllo sull'arte prendi l'arte e mettila da parte cheat il puma non si è accese ha acceso le luci batto il cazzo mi sbatto il cazzo matti matti se vogliono baffi facciamo il party a tarzana live davvero non c'è più niente dio cane c'è sete porco dio dai saluta dio cane allora puma il posto è più l'hai dato giusto? io l'ho dato dio cane 40 23 60 0 5 76 72 43 72 ma amarsi luca matto cazzo però non si può straordinario però dovete capire come lavoriamo questa è questa tv di te qua non è finzione qua mostriamo scuola di regia guardate dove siamo guardate le case guardate le case è notte piena ma chi fa queste robe qua ma chi chi mi dà queste cose ci piace il rischio ci piace rischiare il rischio se voglio gioco d'azzardo se voglio matto se voglio ah si bella 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 pecorina si eppure ancora non voglio smettere di andare avanti senti senti il treno il treno il treno dei desideri guardalo matti matti il treno dei desideri mossa ancora dai forza puma che devi avere i soldi devi avere voglio farla qua che mi viene meglio aspetta c'è l'altelena no piano piano puma piano attenzione puma però attenzione qua è pericoloso veramente la invascia è il treno del treno dei desideri guardati Fala che sei Andrea! Anche io, dai! Brava Andrea! Anche io le fai di farlo Non è facile purtroppo Di pre! Paura! Di pre! Paura! Di pre! Di pre paura! Di pre paura! Di pre paura! Non preoccuparti che qua nessuno può farti niente E fai bene a pretendere l'aiuto Allora grazie regia Il Puma Consigli per gli acquisti fra poco Se voglio! Ci rivediamo se voglio! Dopo la pubblicità Chi cambia canale è un figlio di puttana Arrivederci Allora siamo trovati in onda qui con il Puma Vi ha dato la sua postape per aiutarlo Io vi dico invece che dare i vostri soldi Alle solite cose clericali Datele al Puma Che aiutate la persona vera che dà qualcosa Dio cane! Aiutatemi porco Dio! Madonna lurida! Quella puttana della madonna! Aiutate un bravo ragazzo Che bestiemi ogni tanto così per divertirsi Ma tu sei un di preista e fai bene Di pre se voglio! Di pre paura! Capito! Quindi la tua post in paper vi diamo tutto quanto Veramente aiutate lui che se lo merita Perché è un genio È un grande Un grande artista contemporaneo Se lo merita! Altrimenti muore! Non ce n'è lavoro Dio cane! Cosa devo fare? Cosa devo fare? Come Muniz! Cosa devo fare? Come Muniz! Cosa devo fare? Cosa la figa del culo? Cosa la figa del culo? No eh! Nel culo no eh! Nel culo no! Tiro di sigaretta nel culo no dovete o mi trovate un lavoro mi fate fare delle serate o mi aiutate con il contributo nella post pay pochi ma buoni 40 23 60 0 5 76 72 43 73 a Marche Ziluca poi ve lo scriviamo non cronatela mi raccomando comunque è stupendo tutto questo vedete cosa vuol dire ed è una soddisfazione di preista quella di aiutare la vera arte contro tutti, contro tutto contro tutto e contro tutto di ocane perché se il puma sopravvive grazie a voi, grazie a di pre uniamoci per aiutare il puma l'unione fa la forza, porco dio che cazzo di io devo dire di ocane trombate di ocane non fate i figli che i figli non servono trombate, divertitevi col preservativo e non fate come Muniz attenzione perché è tarda notte fa anche freddo vedete il puma resiste a tutto perché è così puma dacci solo una dimostrazione di forza ancora su te stesso ecco il puma fai qualche gesto tuo finale poi basta che gesto devo fare? di far capire che non scherzi giacane cazzo incredibile porca madosca che cazzo faccio? che cazzo faccio? voglio spaccare tutto voglio spaccare grande puma non ce la faccio se voglio pressioni pressioni ok vien giù tutto vien giù tutto qua vien giù tutto grande puma salutiamo il pubblico grazie salutalo te dai ciao ragazzi se volete darmi una mano siete dei grandi io ci ho bisogno davvero però io provo a farvi divertire e voi se volete datemi una mano io cane this is life la consapevolezza da parte mia di Andrea Di Pre di aver dato agli italiani e all'Italia qualcosa che non esiste al mondo stupendo grandioso sublime riposto nei più alti distillati di pensiero e risoluzione il più merita il rispetto merita il vostro aiuto grazie fatelo per il Di Preismo grazie se volete aiutateci un saluto da Sarzana io ripeto vengo da Romito Magra un paesino bello che mi ha dato tanto se volete aiutatemi vi ringrazio porco Dio